Aggiornamenti per chi legge. Ci troviamo in libreria e chiediamo quali sono i libri adesso più venduti e che cosa, diciamo, bolla in pentola, cosa arriverà sui banchi prossimamente. Sì, nonostante il grigio periodo invernale, le letture continuano a essere una passione anche per gli schitani, anche se sembra strano quasi a dirlo. Dunque, tra le letture, tra i titoli più importanti di questo periodo, o comunque tra quelli più venduti, è impossibile negare il grande successo della pubblicazione del Papa. Il nome di Dio e misericordia in occasione del Giubileo è una lettura che va moltissimo, è molto richiesta e mantiene un grande trend di vendita da diverse settimane. Per quanto riguarda la narrativa, un'ottima partenza l'ha avuto il nuovo libro di Chiara Gamberale, quindi sui sentimenti, un taglio un po' femminile, molto amato dalle ragazze, un libro uscito da un paio di giorni e già vendutissimo. Per quanto riguarda invece le nuove uscite, è proprio di oggi un grande nome, Daniel Steele, quindi la grande signora della letteratura di intrattenimento femminile. Il titolo è Gioco di potere e sicuramente avrà un grande successo, perché questo taglio di romanzo, di intrattenimento, ma non facile, non banale, ha sempre un grandissimo risconto tra i nostri lettori.